Pare non dar conto alla scaramanzia e senatore del Partito Democratico Francesco Russo che con la sua trovata odierna si sente già in tasca la vittoria alle primarie di domenica 6 marzo. Attraverso un volantino non proprio tascabile, l'esponente del PD ha raffigurato la prima pagina di un giornale inventato, ma riconducibile al quotidiano locale, dove in ogni suo spazio viene celebrata la vittoria alle primarie con dichiarazioni ed elogi sui progetti in divenire e con una palpabile amarezza da parte degli avversari. Ironia e sfrontatezza in un solo gesto, sicuramente molta fiducia sul programma metropolitano che si propone numerosi obiettivi. Eppure mancano poco più di 24 ore a quel verdetto che sta tenendo in sospeso gli amanti della politica di centro-sinistra. Domani in notato usciranno i risultati, da quel momento in poi ci si potrà sbizzarrire nel trovare il miglior titolo per celebrare questa piccola vittoria che nelle ultime settimane ha smosso e rubato la scena all'interno delle vicende politiche cittadine. L'invito a far diventare realtà è una cosa che però abbiamo già visto succedere in città in questi giorni. È stato davvero un movimento di persone, di entusiasmo e di passione che non si vedeva da tempo nella politica triestina. Davvero si è rimessa il moto da Trieste che vuole cambiare, che vuole correre perché camminare soltanto, come è stato fatto negli ultimi anni, non basta più. Domenica si deciderà tra chi pensa ancora che questa città vada bene così e chi vuole cambiare davvero. Noi abbiamo messo davanti agli occhi di tutti un pezzo di programma importante, 16 puntate di programma, ogni giorno qualcosa di diverso per dimostrare che Trieste può ancora puntare a grandi sfide, a grandi sogni concreti, ma anche a realizzare le cose che ogni giorno cambiano la vita dei cittadini. Grazie.